Prima lui mi aveva... mi ha detto che ha comprato il mio vecchio cd in Piazza San Babi a Milano dieci anni fa allora mi è venuto in mente questo pezzo che ho fatto su quel disco lì che glielo dedico per la... così anche per la gentilezza che ha avuto a comprare lì perché probabilmente sarà stato in inverno e facevo anche un po' pena Grazie 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 Grazie